Allora, questo secondo esercizio, gestione del conto ristorante, cosa ci diceva? Devo generare in modo automatico le ricevute per i clienti. Le informazioni utilizzate dal programma sono montate in due file. Uno che si chiama menu, che elenca i prodotti del menu, uno per riga, identificativo, numerico, descrizione, costo unitario e IVA. Prendiamo il file menu.txt così ce l'abbiamo sotto mano. menu.txt è questo. Codice, descrizione, importo, costo e IVA. 3 euro il 15% di IVA, 12 euro il 22% di IVA. Le informazioni per elaborare la ricevuta sono contenute in un secondo file che si chiama ordine.txt, cioè l'ordine del singolo cliente o tavolo, insomma, gruppo di clienti, dove viene riportato il codice del cibo che ho ordinato e la quantità relativa. quindi ho ordinato due di 241, che sono, 241 sono pasta al sugo, ho ordinato un C243, che sono gli annotti al salmone e così via. In base a queste informazioni il programma deve stampare a video la ricevuta in cui i prodotti ordinati devono comparire in ordine crescente di IVA, vabbè, riportando per ognuno su una singola riga la quantità ordinata, il nome del prodotto, l'IVA applicata e il costo totale del prodotto. Alla fine ricevuta, stampare il costo totale e indicare la quantità di IVA applicata ai prodotti consumati. È più difficile capire questa frase che non risolvere l'esercizio. Allora, vediamo l'esempio. Lui dice, io devo stampare ciò che ho ordinato, quindi alla fine ordine.txt aveva questi otto elementi e questi sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto righe che devo stampare, ok? In un ordine diverso perché le vuole stampate per IVA crescente, sette, poi quindici, poi ventidue, poi di ciascuno devo stampare la quantità che ce l'avevo nel file ordine, la descrizione che ce l'avevo nel file menu conoscendo il codice del prodotto, il prezzo che ce l'avevo nel file menu conoscendo il codice del prodotto, l'IVA che ce l'avevo nel file menu conoscendo il codice del prodotto. Poi devo fare il totale che è la somma di tutti gli importi IVA, quindi sarà 3 per 1,07 più 1,50 per 1,07 più 3 per 1,07 più 24 per 1,15 e così via, dovrei farmi questo totale qua, di cui IVA è la somma solamente di questa IVA. Uno può calcolare il totale, poi il totale delle IVA e si sommano. Ma chiaramente il lavoro è quello di costruire questa lista qua. Questa lista qua, poi bisogna ordinarla per IVA, va bene, no? Questa lista qua, altro non è che l'ordine, con dei campi in più. Cioè immaginatevi prendere l'ordine .txt, codice, quantità, e di ricopiarci qua di fila, mentalmente, la riga di menu .txt che corrisponde allo stesso codice. È come se io prendessi questo e lo mettessi qua. e lo facessi per tutte le righe. Allora, se io mi costruisco una tabella in memoria che è fatta così, poi devo semplicemente più stampare le cose, ordinare e stamparle in bella, perché ho già tutto. Quindi questo esercizio qua significa andarsi a prendere un prodotto per volta, leggere dall'altra parte, sulla base di quel codice, le altre informazioni e le aggiungo. Io farei veramente una tabella così. Poi la ordino, poi la stampo. Allora, per fare una tabella così, cosa devo fare? Prima di tutto devo leggermi il menu e devo fare in modo che il menu, diciamo così, dalla lettura del menu, possa estrarre in modo molto semplice le informazioni su un prodotto dato il codice. che è un altro modo per dire dizionario. Leggiamo questo file, creiamo un dizionario che abbia come chiave il codice del prodotto e come valore la lista degli altri campi. La volete mettere come lista, la volete mettere come dizionario, è uguale. Poi, nell'elettura del secondo file, tengo conto già del dizionario e man mano che leggo un prodotto ci vado a aggiungere le informazioni aggiuntive. No, questo lo facciamo subito, è velocissimo. Quindi, la lettura del menu fatemi fare il piccolo. Schrivo già il nome del file qua dentro. Tanto il testo dice che il nome del file è quello, quindi non sono obbligato a parametrizzarlo. legge il menu, abbiamo detto che mettiamo le informazioni che troviamo nel file dentro un dizionario. Quindi il menu sarà un dizionario in cui leggo una riga per volta o riga in F campi uguale riga punto R strip barra n punto split sulla virgola virgola giusto? Sì? Occhio che dopo che ho fatto lo strip ci sono degli spazi in questo file qua, perché io quando faccio lo strip alla virgola, cioè lo split alla virgola, il primo campo è il codice. Bene. Il secondo campo è spazio-acqua naturale. C'è lo spazio davanti. Ok? Ricordiamocelo quando ci dobbiamo lavorare. E poi gli altri due campi sono numeri, floating point. Quindi, di questi campi cosa devo fare? Devo aggiungere una voce al menu che abbia come codice menu, cosa ho scritto? menu che come chiave usi il codice. Chi ha il codice? Campi di zero. E come valore mettiamo una tupletta di tre elementi, una lista di tre elementi, è uguale. Facciamo una lista, dietro, cambiare. Il primo elemento sia il nome del prodotto. Quindi è campi di uno, visto che abbiamo notato che ci sono degli spazi, li puliamo. strip, togli spazi davanti e dietro. Il secondo e il terzo campo sono dei numeri, quindi il secondo è l'IVA, il presso, il terzo è l'IVA, quindi già che ci sono li salvo come numeri. campi di due, plot, campi di tre. Ricordatevi che nel resto del programma tutte le volte che userete questi e dovete farsi dei conti, ringraziate voi stessi che avete fatto la flotta nella lettura del file. e fine. Viene una cosa così, stampato brutto, ma chiave 001, acqua naturale 1,5 e 7, chiave 003, Coca-Cola 3,7. A questo punto posso avere l'altra funzione che invece legge l'ordine alla quale passo anche l'informazione sul menu perché così mi va ad aggiungere i campi mancanti. allora l'ordine è uguale a questo punto lo dobbiamo ordinare per IVA eccetera eccetera quindi è una lista non è un dizionario mi conviene averlo come lista e leggo i file, leggo gli elementi del file ordine.txt with open ordine.txt in lettura encoding uguale UTF8 ok vado a leggere il singolo campo por riga in F la lettura dei file quando sono divisi per campi come vedete non vale neanche la pena di avere CSV reader questi sono talmente semplici in questi esempi qua allora for riga in F vado ad estrarre i campi riga.rstrip barra n punto split sulla virgola adesso ho questi campi che ottengono cosa? ottengono codice virgola quantità anzi codice virgola spazio quantità allora quasi quasi io converto la quantità che è un numero intero in intero così anche il problema dello spazio se ne va dimmi allora dipende cosa ci faccio se io faccio int a una stringa che contiene uno spazio e un numero gli va bene la funzione int è capace a ignorare gli spazi prima e dopo il numero quindi non crea problemi se anziché lo spazio ci fosse un asterisco una lettera un trattino allora no ti dà errore questo int e float sono in grado di ignorare gli spazi intorno al numero solo gli spazi quindi in questo caso io direi campi di uno uguale int campi di uno prima di fare l'append dei campi che ho creato al mio ordine attenzione adesso solamente fate una tabella che contiene questi dati qua però io voglio la tabella più larga allora va bene io posso andare a prendere gli altri campi li prendo dal menu corrispondente al codice di quest'ordine campi di zero è il codice se accedo al menu con questo codice mi dà la lista di nome prezzo IVA come sotto forma di lista sono degli altri campi e quindi io quando vado a appendere questo appenderò una lista che è fatta da campi più altri campi concatedo le due liste i due elementi presi dall'ordine e i tre elementi presi dal menu plaf potete usare extend potete usare più per concatenare dipende cosa vi diverte di più allora se è così cosa salta fuori salta fuori niente perché non ho fatto il return ma se faccio il return salta fuori il mio ordine così primo elemento codice quantità che questo è un periodo da ordine nome prezzo è un periodo da menu e idem per gli altri codice quantità nome prezzo iva vabbè fatto questo significa solamente a questo punto l'ordine lo metto in ordine scusate il gioco di parole per quantità di iva crescente dov'è l'iva allora colonna 0 colonna 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4 quindi ordiniamo ordine punto sort chi uguale operator punto item getter colonna 4 crescente va bene così e quindi ho gli campi nell'ordine giusto e posso stampare questa cosa qui quindi print ricevuta for voce in ordine per ciascuna voce cosa stamperò print abbiamo detto il primo campo è la quantità la quantità è il secondo campo è la seconda colonna quindi la colonna di inizio è 1 quindi sarà voce di 1 e lasciamo i tre caratteri poi spazio poi cosa devo mettere il nome del prodotto quindi sarà voce di 012 e questa è una stringa diamoli 30 caratteri di spazio ho chiuso la virgoletta va dopo poi spazio devo stampare il prezzo il prezzo che è il campo successivo a voce di 3 questo è un numero floating point che stampiamo con due cifre decimali dunque due cifre decimali più il puntino più magari due o tre davanti fa 3 più 1 4 più 2 6 8 mettiamo un po' di spazi di buona misura poi dobbiamo scrivere IVA perché il testo ci dice scrivere così IVA e poi il valore dell'IVA anche qua è un numero floating point con uno due tre quattro cinque caratteri quindi l'IVA è voce di 4 5.2 F e poi c'è un simbolo di percento adesso però oltre che stampare dobbiamo anche farci due conti per poter stampare i totali in fondo ok allora per stampare i totali in fondo mi serve fare la somma dei prezzi e la somma del componente IVA di ciascun prezzo la somma del componente IVA di ciascun prezzo mi serve per stampare il DQ IVA la somma dei prezzi più la somma della componente IVA mi servono per stampare il costo totale quindi basterà fare la somma prezzi 0 somma IVA 0 e poi dentro il ciclo dopo che stampo qualche cosa incremento somma prezzi di che cosa allora il prezzo abbiamo detto che era questo qua voce di 3 e poi la somma dell'IVA sarà incrementata della quantità di IVA sulla voce 3 quindi a voce 3 per voce 4 diviso 100 prezzo per aliquota di più 100 chiaramente perché è una percentuale e mi dà la componente IVA quindi alla fine di tutto posso stampare totale di cui IVA quindi print totale totale che cosa sarà il mio totale mettiamolo come fstring somma prezzi più somma IVA con due cifri cimali e di cui IVA vabbè semplicemente somma IVA 73 e 10 12 e 10 sono i numeri che venivano no cosa sbagliate ah la quantità scusate ho dimenticato di moltiplicare per la quantità quindi la quantità è voce 3 per voce di 1 e anche l'IVA analogamente voce 3 prezzo per unitario per quantità per aliquota viene anche qua sbagliato ma sbagliato non lo so viene diverso dimmi ah ho letto male il testo ottimo queste sono le cose bellissime da fare all'ultimo minuto dell'esame ti accorgi che hai letto male c'era anche nota ma il costo del singolo prodotto del menu è già inclusivo di IVA quindi dato il costo del prodotto e il valore del percentuale IVA occorre trovare la sua IVA allora questo qua è facile quindi vuol dire che questa stampa va bene non è un problema la somma dei prezzi comprende già l'IVA la somma dell'IVA invece va calcolata quindi somma prezzi totale è già giusto così ok 133,50 l'IVA va come dicono scorporata quindi vuol dire che il prezzo che che c'è scritto qua è già prezzo più IVA quindi quel valore lì è già qualcosa come prezzo più IVA ma IVA che cos'è? è prezzo per aliquota ok? questo è il valore che vediamo noi abbiamo questo valore conosciamo l'aliquota dobbiamo ricavare il prezzo e poi quindi la componente IVA quindi se noi prendiamo il prezzo IVA lo dividiamo per uno più aliquota otteniamo il prezzo non IVA giusto? c'è un prezzo totale l'aliquota è del 20% lo divido per 1.20 e mi dà il prezzo prima che applicassi l'IVA perché applicare l'IVA significa poi moltiplicare per 0.20 e poi sommare il prezzo di nuovo ok? allora questo qua mi dà il prezzo di partenza a me serve non il prezzo di partenza ma l'aliquota che ci applico e allora ci moltiplico di nuovo per l'aliquota quindi vuol dire che il valore che devo sommare non è il prezzo di partenza ma il prezzo moltiplicato per 1 più aliquota 1 fratto aliquota scusate aliquota fratto 1 più aliquota quindi il prezzo è questo ok? poi lo devo moltiplicare per aliquota e dividere per 1 più aliquota e aliquota è sempre voci di 4 diviso 100 22.01 che è giusto ok? quindi avevo dimenticato di leggere la nota e poi di implementarla qui solo una formuletta per passare dal prezzo con IVA al prezzo senza IVA e poi ricalcolarci sopra l'IVA questo qua questo qua contrariamente alle previsioni l'abbia rivolto molto in fretta era molto semplice prendendo il giusto diciamo così era molto semplice dimmi nell'IVA qua ah sì certo grazie e anche qua allora no ma che scemo l'IVA non si moltiplica perché la percentuale non è il il prezzo qua l'ho moltiplicato così giusto? aspetta lo rifaccio sì perché ho stampato il prezzo unitario ma non il prezzo moltiplicato per la quantità ordinata ok? ci sono meritati l'intervallo? un quarto d'ora poi facciamo l'altro esercizio